Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany, buon 2021 a tutti e tutte voi e devo dire che insomma ci eravamo lasciati un po' in sospeso con l'Eurosco Fiction ovviamente al quale forse dovevano precedere qualche, diciamo, resoconto di fine anno quindi ce li scaviamo in questa prima settimana, comunque appena io avrò voglia di montare questo video raga, solo qualità è il sottotitolo di questo canale quindi cosa rimane da fare? Due cose, la prima è sicuramente un po' la classifica ma non chiamiamola classifica né top, diciamo vi racconto quali sono state le migliori letture dell'anno e poi a un certo punto dovrò fare un po' un wrap up degli ultimi sei mesi un po' come ho fatto nell'ultimo video dove invece che fare il wrap up mese per mese ve l'ho fatto alla fine della somma di tutto, ma arriverà fra un po' quando avrò voglia di farlo e probabilmente seguirà a questo video la TBR invece del 2021 o comunque delle cose che più attendo ce la prendiamo con calma intanto volevo fare anche un po' un resoconto di queste letture 2020 nel senso che so che abbiamo tutti voglia di buttarci nel nuovo anno ed è legittimo e quasi naturale visto che ci vogliamo lasciare alle spalle questa merda totale che è stato il 2020 e quindi fondamentalmente un po' pensando alle mie letture questo è stato un anno molto strano nel senso che io di solito leggo moltissime novità leggo tantissimo fantasy poi prevalentemente anche perché come avrete capito su questo canale si parla di quello anche se continuate a chiedermi di parlare di altro ma... e quindi però devo dire che quest'anno invece io ho davvero letto abbastanza perché alla fine della fiera ho letto più di 60 libri ecco io non sono fissatissima con i numeri per me arrivare a 60 libri soprattutto il tipo anche che ho letto di libri è un grande risultato soprattutto perché si scontra anche con la mia vita lavorativa che significa lavorare 24 ore su 24 ho fatto 7 giorni su 7 e un'altra serie di impastrami, incastri e gestire il canale e vabbè tutto il casino solito quindi al di là del fatto che secondo me non è tanto un numero non è una sfida, non è una prova eccetera però insomma mi dà un buon ritmo perché significa che almeno un libro a settimana tutto l'anno io l'ho letto anche se in realtà non è così perché io ho passato settimane se non per dire mesi senza leggere una cippa e poi magari in una settimana ho letto 7 libri perché questo è come funziona il mio cervello come sempre male detto ciò a livello di letture mi sono resa conto che ho letto davvero tantissimi saggi quest'anno e questo secondo me è ottimo ho letto tantissimi libri anche di narrativa contemporanea che di solito lascio da parte molti fumetti molte graphic novel questo sempre come tutti gli anni mi fa piacere e ho lasciato molto da parte le novità però quelle novità che ho letto mi sono piaciute molto e infatti ora vi vado a fare un po' una top che non è una top ma vi dico quali sono secondo me le mie letture migliori di quest'anno e poi dopo lascio uno spazio in fondo proprio per quelle che sono state le letture del mio cuore non è una sorpresa nel senso che lo sanno anche i muri qual è il mio libro dell'anno e quali sono le mie letture dell'anno probabilmente ma ripassiamole insieme ah mi raccomando questa è un po' la mia classifica a caso però voi fatemi sapere giù nei commenti almeno i primi tre libri cioè almeno o anche uno però insomma datemi un po' di titoli che a voi sono piaciuti tanto se sono miei consigli lo sapete che mi fa sempre piacere dopo questo pipone iniziale che non vi meritavate direi di iniziare quindi partirei da il fondo e se avessi anche della testa ve lo faccio anche vedere allora ahimè vorrei farvi vedere tutto ciò che è in questa sorta di classifica finale che non è una classifica è 28 ma c'è casa mia ormai è più libri che cose quindi il problema è recuperare tutto io odio mettere a posto odio cercare le cose quindi voi come sempre quello che c'è c'è e prendete un po' le cose come vengono ripeto hashtag solo qualità allora il primo titolo che in realtà è in fondo perché l'ho letto proprio nell'ultima parte dell'anno a dicembre sono riuscita finalmente a recuperarlo appena hanno riaperto un po' tutto è play with fire di Nikotz Balboa edito da Oblomov pagato 20 euro questo è una graphic novel che però alla quale va fatta un po' di background io seguo Nikotz da credo il 2005-2006 quindi per me è un'artista che davvero è storica quasi nella mia formazione la seguo dai tempi remoti dove ancora neanche tatuava o forse se tatuava aveva appena iniziato e dopodiché a me è sempre sembrato estremamente interessante il suo percorso come illustratrice e mi piacciono tantissimo i suoi disegni quindi sono proprio super innamorata poi lei è molto legata anche a Bolo insomma al Bilbo al Bula al Chip a tutti i festival un pochino che ci sono qua in città e devo dire che sono super felice di aver letto questa sua seconda graphic novel in Play with Fire Nikot si confronta con tante tematiche che hanno a che fare con il proprio orientamento sessuale l'identità di genere e cose che non ha chiare o cose che ha scoperto dopo un percorso lunghissimo perché infatti qua andiamo indietro davvero dei tanti anni e cerca di mettere in fila tutte le cose che nel corso degli anni sono state preziose per arrivare a una consapevolezza che è quella finale è un libro molto sincero molto onesto e da Nikot io non mi aspetto nient'altro davvero insomma Nikot secondo me è sempre stato capace di raccontare tante parti che le persone tendono a nascondere a essere super dissacrante con grande ironia e con grande anche boh cioè rega è così e questa cosa a me piace molto e non so a me è piaciuto molto seguire il suo percorso è stato interessante anche perché secondo me crea molte medesimazioni nel lettore e nella lettrice proprio perché si pone le stesse domande che si pongono tutte le persone che di identità di genere e di questioni e questioni legate all'orientamento sessuale che molte persone proprio cioè evitano di porsi o non conoscono finché non ci si trovano difficilmente considerano comunque Play With Fire super bello io ve lo consiglio l'unica l'unica pecca veramente che ha è che i testi sono illegibili e rega se avete problemi di lettura io ultimamente ne ho tante perché ho gli occhi stanchi e cioè è stato veramente difficile leggere la sua pecca e veramente l'accessibilità alla lettura per il resto è bellissimo i disegni sono bellissimi super suggerito l'altra graphic novel che io ho amato è Zanne di Sarah Anderson è un libricino proprio un libricino di quelli che leggi e dopo sei più felice quindi questa cosa a me ha veramente fatto un sacco piacere tra l'altro è davvero la storia in soldoni molto divertente di una vampira che si mette con un lupo mannaro mille gag mille gag di ironie che cioè non so non potete non apprezzarci sulle gag su Twilight hai capito e quindi non lo so io ho davvero adorato è davvero un libro molto semplice molto diretto e io davvero me ne sono innamorata perché è davvero di una dolcezza e di unica e in tutto il suo essere strano weird e super darkettone e ve lo consiglio tantissimo è edito in Italia da becco giallo quindi lo recuperate super tranquillamente e che bella edizione che bella edizione davvero anche in Italia immantabile direi in questa classifica finale anche il futuro non promette bene di Eleanor Davis e in tutta questa classifica tra l'altro sto tenendo fuori i saggi perché se no viene una lista infinita quindi vabbè facciamo fumetti graphic novel e ovviamente libri narrativa eccetera e in questo caso la storia della nostra protagonista ha a che fare con il controllo sociale con le manifestazioni con le proteste e ovviamente con quelle cose che vedete qua in copertina di cui non siamo fan su questo canale per non dire di peggio detto ciò io l'ho trovato davvero una narrazione che riesce in qualche modo a trasmettere la difficoltà e la complessità della relazione tra guardie e persone guardate al di là delle opinioni personali che ovviamente ognuno di noi può avere e può avere anche opinioni molto contrastanti però secondo me qua c'è una semplicità nella trasmissione di queste informazioni insomma penso che sia molto chiaro qui capire in un contesto molto contemporaneo che abbiamo visto in tv che vediamo molto spesso soprattutto dopo le proteste per George Floyd il rapporto che si può avere quando hai paura delle guardie hai paura di chi dovrebbe essere in difesa del popolo ma in realtà vabbè è imprescindibile secondo me anche l'opinione politica leggendo questo libro e questa graphic novel anzi a me è piaciuta moltissimo perché parla poi di relazioni di amicizia di rapporti anche nell'attivismo l'attivismo in contrasto con tutto ciò che si rischia molto bello io devo davvero ringraziare anche Rizzolite me l'ha mandato quindi super grazie direi che questa non è una sorpresa ma d'altronde non poteva che essere così la terra il cielo e i corvi di Teresa Radice e Stefano Turconi ovviamente è stata una delle mie graphic novel se non la mia graphic novel preferita di quest'anno loro due hanno questa capacità di raccontare storie che molto spesso magari non ti dovrebbero interessare o comunque che toccano temi abbastanza lontani ambientazioni non così scontate non lo so hanno questa capacità però di trascinarti dentro queste storie e di raccontarti queste storie facendoti sentire che tu sei una parte imprescindibile di queste e che queste storie parlano di te anche se non te ne rendi conto questo secondo me è il loro potere magico più incredibile e tra l'altro se volete recuperare c'è la mia intervista a loro due fatta su Instagram è disponibile nelle IGTV io non so li amo tantissimo dal momento in cui ho letto Non stancarti di andare e da lì ho recuperato tutto e devo dire che si confermano ancora una volta una coppia incredibile secondo me del fumetto italiano la terra al cielo e al corvi parla di guerra ma più che di una guerra come quella vissuta dai nostri soldati che sono i protagonisti di questa storia la vera guerra è capire dove si vuole andare la vera guerra è capire la propria direzione e come questo sia fondamentalmente un viaggio un viaggio che crea nuove consapevolezze come penso ogni viaggio sia fisico che mentale e lo fa con degli elementi poetici anche attraverso il disegno il paesaggio queste ambientazioni dove ti senti piccolissima ti senti davvero un puntino non lo so sono quei viaggi che ti insegnano qualcosa anche in meno di 200 pagine e io ve lo consiglio tanto è bellissimo a livello di disegno di colori di tutto è veramente super bello inaspettato può non ispirarvi inizialmente ve lo prometto perché secondo me anche qua il tema la guerra eccetera può sembrare strana molto distante da noi leggetelo senza proprio ombra di dubbio come tutto ciò che producono perché è oro oro proprio collato se non ho fatto danni la mia idea è di passare ai libri il primo titolo del quale vi parlo è sicuramente la biblioteca di mezzanotte c'è una mia recensione dedicata se volete esplorare bene perché a me è piaciuto nel dettaglio perché potrebbe essere un libro che fa per voi non credo sia un libro per tutti assolutamente la biblioteca di mezzanotte è uno di quei libri che secondo me al momento giusto è perfetto e anzi penso sia proprio uno di quei libri dove se ti capita tra le mani quando ne hai bisogno è quasi salvifico è un libro molto caldo è un libro che non stravolge nulla non aggiunge nulla di più ma ti dice le cose giuste al momento giusto porta quel tipo di consapevolezza che tu fondamentalmente hai ma devi ritrovare soprattutto se soffrite di ansia di depressione di problemi legati alla salute mentale è una coccola non è un libro che vi stravolgerà ne vi farà sentire perfettamente più compresi non è quello però vi dirà che in quel momento potete non sentirvi così delle merda e secondo me ogni tanto ripeterselo non fa male e soprattutto leggerlo io mi sono ritrovata moltissime in alcuni pensieri della nostra protagonista così tanto che mi ha fatto paura perché mi rendo conto che siano sentimenti sempre ripetitivi e condivisi e questo secondo me è il suo punto di forza non è tanto nella trama nello stravolgimento però anche un po' il fatto di riappropriarsi della propria narrazione della propria storia e darsi delle nuove possibilità proprio come dentro la biblioteca di mezzanotte è importante quindi questo rientra senza dubbio tra i miei libri preferiti di quest'anno e sono super contenta di averlo letto è edito da Edizioni EO ed è di Matai ovviamente non so se neanche l'ho detto e comunque leggetelo secondo me è una di quelle letture calde e sono convinta che ogni tanto per quelle persone che hanno bisogno di un pochino di darsi una tregua di sentirsi dire qualche parola di affetto qualche parola di comprensione è il libro perfetto è il libro adattissimo vi racconti invece adesso tre titoli italiani che secondo me sono tra le più belle letture fatte quest'anno la prima è La Festa Nera di Violetta Bellocchio cioè non è una classifica questo ve l'ho detto cioè proprio un bollirone di tutte le cose secondo me più belle più preziosi lette quest'anno La Festa Nera era un titolo a cui io giravo attorno da un sacco tanto che l'ho comprato quasi due anni fa e poi vabbè a me piace molto la copertina quindi non ci posso fare niente detto ciò La Festa Nera è un libro molto particolare secondo me non è assolutamente un libro per tutti soprattutto per la scrittura è una scrittura così dura e così aderente all'ambientazione la situazione il dramma che è molto ostica è un lavoro spigoloso insomma la sensazione è un po' quella di ingoiare del catrame quindi secondo me non è propriamente un libro per tutti e tutte comunque La Festa Nera è una sorta di distopia molto leggera i nostri protagonisti vengono da un episodio estremamente segnante per le loro vite complicato di shitstorm online che poi si è tramutata in una situazione pesantissima si ritrovano anni dopo per provare a portare a casa un progetto insieme si occupano diciamo di giornalismo d'inchiesta detto molto vagamente e si avventurano in questa sorta di comunità tra le montagne tra le colline che nasconde cose che scopriremo insieme a loro ma al di là di questo che è un po' la base della nostra storia quella a cui noi assistiamo è da un lato la consapevolezza di ciò che sta succedendo loro attorno il ritorno al legame con questi luoghi quasi rarefatti luoghi un po' distaccati da tutto ciò che invece avviene negli ambienti urbani e soprattutto anche la psicologia dei nostri protagonisti è qualcosa che diciamo si fa sentire perennemente lungo tutto il romanzo a me è piaciuto moltissimo quindi io ve lo consiglio ve lo continuerò a consigliare per me è un gran lavoro quello di Bellocchio ciao Bp poi ovviamente la mia scoperta dell'anno e prendo questo simbolicamente perché è stato proprio secondo me il primo e da lì è partito il mio grande amore per Ijo Vascego ve l'ho già detta è nominata 200 volte quest'anno mi dispiace per voi bellissimo anche Adobe bellissimo anche Roma Negata vi consiglio anche la linea del colore che però forse è quello che mi è piaciuto meno tra tutto ma perché io ho talmente poco interesse per l'America che è un problema mio comunque La mia casa è dove sono racconta fondamentalmente la storia di Ijova e della sua identità un'identità che nemmeno lei può definire al 100% e come questa identità è sempre diversa è sempre trasformata è sempre adattata a ogni contesto nel quale ovviamente si confronta perché è un afrodiscendente anzi Ijova è nata a Roma da genitori somali esuli diciamo politici ed è la prima della sua famiglia a nascere in Italia ed è un casino tutto il resto devo dire che il modo in cui si racconta racconta la sua storia racconta anche gli aspetti più tragici per me davvero è una voce super unica e super riconoscibile ed è stata la mia scoperta dell'anno a livello di autrici italiane Ijova davvero un cuore enorme poi sotto consiglio di Esperance io ho letto Cronache dalla polvere del collettivo Zoya Barontini io ve lo consiglio moltissimo parla dell'esperienza coloniale italiana che noi pensiamo che l'Italia non abbia mai avuto le colonie che l'Italia si è immune dal colonialismo l'Italia è stata una merda ma è una merda dei livelli schifosi non solo con i fasci che tanto lo sappiamo che i fasci fanno schifo ma anche prima diciamo tutta l'avventura coloniale italiana parte dal nostro glorioso passato monarchico con la peggiore monarchia in Europa anyway comunque a parte queste cose che vabbè io qua mi scaldo allora parla e racconta tramite quella che è una vera e propria mosaic novel in questo volume ci sono 12 racconti di cui uno di Gia Bascego e uno di Nicoletta Vallorani io ve le segnalo ovviamente però cosa significa questa è una novella che si compone di diverse storie che però sono concatenate con loro quindi ci sono dei personaggi che ritornano dei luoghi che ritornano per raccontare da tanti punti vista che siano i soldati fasci i residenti del luogo le persone etiopi che siano altri soggetti che capitano che sia la resistenza etiope che siano i collaboratori così ci sono talmente tanti punti di vista che raccontano ciò che l'Italia ha commesso quelle atrocità che è riuscita a davvero creare insomma da brava gente quale siamo in Etiopia per un sogno coloniale folle e completamente insensato ma noi dovevamo fare i macci e dimostrare che avevamo un sacco di muscolacci e infatti ci hanno rispedito anche a casa calcino il culo ma intanto siamo riusciti a sterminare centinaia di migliaia di persone e quindi insomma io ho seguito un po' il consiglio ci sono pareri molto discordanti su questo volume a me è piaciuto moltissimo mi è piaciuto perché poi tra l'altro queste storie davvero è molto bello vedere che recuperi dei luoghi recuperi una situazione hai magari visto la prospettiva della resistenza e dopo leggi quella del soldato fascio oppure situazioni magari che si mescolano che tu avevi già inquadrato in una vecchia storia ci sono tanti riferimenti non lo so a me è piaciuto moltissimo e mi è piaciuta proprio questa concatenazione di questo gruppo di autori e di autrici che secondo me ha fatto un ottimo lavoro per chi non ne sapesse nulla sulla questione del colonialismo etiope secondo me questo è un buon punto di partenza anche perché all'inizio c'è una piccola mappa cronologica che vi ripercorre un pochino tutta la storia diciamo dal punto di vista ufficiale in fondo poi ci sono tutte storie da parte degli autori e delle autrici che raccontano il loro legame con la terra etiope il loro legame con la storia del colonialismo italiano perché ci si sono voluti confrontare perché hanno delle questioni risolte è bellissimo a me è piaciuto davvero tanto mi dispiace che non abbia avuto dei seguiti perché secondo me è questo modo geniale per raccontare la storia anche a chi non interessa andiamo avanti e passiamo da questi tre libri che mi hanno molto folgorata a altri libri ovviamente che mi sono piaciuti tanto e mi sento sicuramente di citare pantomime di Laura Lem pantomime è la storia di Mika Gray che è una persona intersessuale che entra a far parte del circo e tramite il circo la dimensione del circo noi osserviamo un po' la sua storia come Mika via via cerchi di ridefinire la propria storia e la propria identità io ho letto solo il primo è un libro fate conto autopubblicato che ha però ottenuto diverso successo manca l'editing ma quindi io faccio premesse perché ci sono dei difetti incredibili in questo libro ma diciamo che se qualcuno le avesse dato un editor e anche un grafico ahimè però vabbè devo dire che questo sarebbe stato un libro della madonna la rappresentazione secondo me è ottima perché noi capiamo proprio che Mika è una persona a metà vuole stare in quella metà senza dover per forza definirsi al 100% ma vuole essere a proprio agio senza dover essere soprattutto costretto da persone esterne a prendere delle decisioni e la dimensione del circo ovviamente qua è perfetta perché nel circo può esprimersi nel modo in cui preferisce crea legami ripercorre il suo passato un passato che insomma si fa sentire per me è una storia molto dolce allo stesso tempo cruda e che svela anche tanti aspetti di secondo me un campo dove ci si avventura molto poco in letteratura che è l'interessualità ed è una storia davvero molto carina ci sono degli elementi a caso buttati lì dall'autrice che doveva strafare ma ok ma tutta la storia di Mika è scritta davvero molto bene io ho letto solo il primo quindi non vi suggerisco di continuare perché poi mi dicono che diventa problematico anche dal punto di vista della rappresentazione il primo mi è piaciuto tantissimo poi come non citare anche un altro libro del quale vi ho fatto anche la recensione che è Notes and Crosses di Mallory Blackman che in questo caso in italiano si chiama Il bianco e il nero che ho scoperto dopo aver fatto la recensione che era stato tradotto ma come sempre qua solo della qualità anyway Notes and Crosses è un distopico che però parte da un presupposto molto semplice come sarebbe stato il mondo se il colonialismo fosse stato esattamente al contrario cioè se fossero i neri ad avere il controllo su tutto e non i bianchi cosa come ci confrontiamo con questi sentimenti eh confrontiamoci con questi sentimenti e in Notes and Crosses questa inversione delle parti crea questo senso di disagio secondo me dal punto di vista di chi legge ed è bianco che ci meritiamo ovviamente e che allo stesso tempo dà una prospettiva di tutte queste discriminazioni di tutto ciò che succede delle dinamiche anche di contrasto perché ovviamente è tutto facile dire non è così che si protesta è molto facile dire non queste reazioni la comunità e questo e quest'altro affibiare delle cose alla fine poi mettendosi dalla loro parte secondo me ancora di più siamo traghettati a pensare che forse eh cosa dici anche io avrei reagito così eh cosa dici eh cosa dite io l'ho trovato molto bello perché fondamentalmente è anche una storia abbastanza leggera pur non essendo leggera fondamentalmente noi seguiamo i nostri due protagonisti che sono amici da tutta la vita ma lei è nera e lui è bianco lui è considerato una razza inferiore ovviamente viene trattato come tale in tutti gli aspetti della vita ed emergono man mano tutte le discriminanti che fanno parte del loro mondo e si confrontano sempre meno con il legame che per loro è naturale quello dell'amicizia e magari di altre cose e man mano il mondo esterno le divisioni eccetera li costringono a fare conti con la realtà io la suggerisco veramente anche ai muri leggete notes and crosses c'è anche in italiano e non avete scuse in pratica beh non le avevate neanche prima però ok ora passiamo all'Olimpo cioè passiamo veramente alla vera top di quest'anno cioè quei quattro titoli ok che io annovero tra gli intoccabili di quest'anno comunque le cose che più mi porto nel cuore non che queste che vi ho raccontato non me le porto perché davvero sono stati estremamente formativi da un lato che mi hanno fatto riflettere che mi hanno raccontato storie belli ok tutto bello ma poi andiamo alla classifica dei quattro del cuore cioè i cavalieri dell'apocalisse il primo titolo che vi cito è black girls unlimited di echo brown di cui non ho mai parlato perché l'ho finito con molta calma e l'ho finito tra le lacrime come non piangevo da anni cioè in confronto quello che ho pianto su altri libri è nulla e io ve lo dico sui libri piango tantissimo ma come ho pianto su questo libro ok black girls unlimited racconta la storia di una ragazza che scopre i suoi poteri magici diciamo costretta in qualche modo a imparare ad usarli proprio come la sua discendenza ok e però non so come dire però parla di questi poteri magici in un modo molto peculiare ovvero che questi poteri sono una necessità nella vita di tutti i giorni per una ragazza nera per sopravvivere a tutto ciò che le può capitare ovviamente ragazza nera di estrazione sociale bassissima non stiamo parlando di una ragazza nera benestante e lei impara in questa storia a governare la propria magia che non ve lo voglio nemmeno svelare questa magia è sono le capacità che lei deve acquisire per sopravvivere fondamentalmente racconta di tutte le difficoltà che ha dovuto attraversare di tutte le difficoltà della madre della propria famiglia dei propri contesti della forza che si dà alla comunità per sopravvivere davvero di un toccante è scritto in una maniera così poetica così bella così intensa così vivida che per me è davvero qualcosa che farei leggere veramente inciderei sui muri è ovvio che racconta un contesto americano che secondo me per tante cose non è simile non è sovrapponibile al nostro ma per tanti versi il racconto che fa Eco Brown in questo volume secondo me è molto simile alla storia di tante ragazze nere anche italiane veramente mi è rimasto nel cuore ogni volta che ne parlo mi vengono i brividi perché è davvero molto molto intenso e non so come dire e mi è piaciuto moltissimo anche come abbia sfruttato l'elemento fantastico che è veramente super sottile per fare questa allegoria con le capacità che sviluppiamo è bellissimo leggete Black Girls Unlimited per me davvero ne uscite distrutte ma sapete che vi ha fatto bene ok poi come non citare un libro che io con reluttanza ho accettato di leggere non voglio leggere io ve lo dico sempre che se c'è una roba che faccio molta fatica a leggere è quella sulla violenza sia domestica che ovviamente sessuale e compagnia varia ma meno male che l'ho letto e in questo caso infatti parliamo di ogni volta che ti picchio di mena kandasami e questo è non so come dire come fai a leggere questo libro senza sentirti coinvolta e tirata per i capelli partiamo dal presupposto il tema centrale è da un lato la violenza ma non è la violenza in maniera grafica e in maniera esplicita quindi se come me ho fatto una grande fatica a leggere queste cose è meno grafico ed esplicito di quello che insomma potete pensare e potete immaginare allo stesso tempo ragiona sui motivi della violenza ragiona su tutte le dinamiche che portano delle persone violente a isolare che fatica a parlare di questo libro allora tutto ciò ragiona su come le persone violente ci tendono a isolare e a far sentire praticamente senza speranza le proprie vittime ragiona su tante cose che a me sono rimaste molto impresse e che io sento molto vicino a me il marito della protagonista tra l'altro è un esponente del partito comunista che fatica allora detto ciò il marito poi della nostra protagonista è un esponente del partito comunista super comunista eccetera e ragiona moltissimo anche sul rapporto che si ha con l'impegno politico quando l'impegno politico è a sinistra quindi a sinistra si tende a credere che non esistano persone violente persone maschiliste e quant'altro io l'ho sentito molto 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 vicino c'è tutta questa manipolazione tutte queste dinamiche che sono raccontate da Mena in una maniera tanto 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 forte mai drammatica mai esagerata c'è sempre questa lucidità e questa voglia di ricomporre tutti i pezzi della sua storia che è una storia orribile è una storia tragica ovviamente è una storia drammatica che è assimilabile a quella di tante donne vittime di violenza e boh io ho finito questo libro in due ore perché non riuscivo a staccarmi negli occhi è veramente qualcosa che vi trascina dentro in una maniera vorace incredibile quindi so che c'è tanta reluttanza a leggere questi temi perché confrontarsi con la violenza confrontarsi con la violenza sessuale per una donna è complicato è molto complicato fate però un favore a voi stesse e leggetelo leggetelo indipendentemente perché è bellissimo è veramente potentissimo è veramente a un livello che secondo me possiamo connetterci tutte con Mena e possiamo connetterci con la sua storia la sua lucidità e il suo modo di mettere in fila le cose in modo che le riconosciamo ancora un po' di più perché dovevo mettere sto libro passiamo a qualcosa di più leggero perché infatti spunta la nostra amata Gideon la nona di ovviamente Thompson Muir che dire cosa dire di questo libro se non che mi ha stregata mi ha rubata al cuore c'è una mia recensione dedicata per tutte le persone che ovviamente ancora non sono entrate nel loop e non sono diventate sceme soprattutto team Arrow è una storia divertente super dinamica scritta come se fosse sotto effetto di stupefacenti io non lo scluderei e parla di cose pazze nello spazio dove c'è una sfida impossibile che neanche noi capiamo cosa sia e c'è Arrow no scherzi a parte io l'ho trovata una delle uscite che proprio mi hanno colpito di più ma perché ha tanti elementi che a me ovviamente piacciono non so come dire fondamentalmente era un po' facile cioè metti due pazze necromanti nello spazio gli fai fare una sfida impossibile intrighi di palazzo cose che nemmeno noi capiamo sta sfida che boh tu lo sai cosa significa no nessuno lo sa nemmeno loro e quindi mi ha conquistata tantissimo il cuore io non vedo l'ora di leggere Arrow ma sto aspettando io l'ho comprato il giorno che ho finito Gideon cioè tipo il giorno due minuti dopo ma è ancora lì un po' perché da un lato ha letto la nona esce tra due anni quindi mi sembra un po' no due anni ora è uno un anno vabbè nel 2022 esce e non so se me la sento quindi forse attenderò l'uscita italiana giusto per non morire del tutto non lo so comunque raga che bello mamma mia quanto mi è piaciuto sono super contenta di questa cosa davvero mi è piaciuto tantissimo sì Elena Francesca e Rossella lo so aveva cioè chi è che non me l'ha detto almeno 200 volte sì però avete ragione però comunque sono molto felice di averlo letto quest'anno è stata una delle letture più belle più dinamiche più sporche più necromantiche che esistano datemi delle ossa e io sarò felice cioè voglio dire e ovviamente arriviamo in fondo arriviamo in fondo con la non sorpresa per tutti e tutte se mi seguite da almeno 365 giorni sapete che io a gennaio ho letto un libro in anteprima ed è diventato il mio libro dell'anno comunque questa è veramente una roba che a me torna sempre cioè leggo un libro in anteprima tipo tra dicembre e gennaio diventa il mio libro dell'anno e tutto l'anno io lo passo sperando che ci sia qualcosa di ancora meglio ma ho già letto il libro della vita perché è successo l'anno scorso col mare senza stelle l'anno prima con Circe quest'anno invece è successo con Piranesi di Susanna Clark per me Piranesi è la migliore lettura dell'anno proprio a mani basse per una serie di motivi Piranesi è un libro del quale io non vi parlerò della trama perché la trama non conta niente cioè la trama non è il tema non è la cosa importante anche perché secondo me è fuorviante perché voi vi fissate sulla trama boh non mi interessa non ce ne frega niente della trama Piranesi vaga in questa casa che è come un labirinto nel quale è rinchiuso da solo se non per le poche visite che riceve detto ciò questo è tutto ciò che vi deve insomma dovete sapere a livello di trama tutto il resto è un gioco di incastri scoperte tutto il resto è un gioco di incastri di cose da decodificare di scoperte di presagi di valutazioni sulle persone le poche che ci sono non lo so Susanna Clark è davvero io sono una grande fan di Jonathan Strange e Mr. Norrell ma questa volta secondo me lei ha un livello completamente diverso ok ma ha scritto uno dei fantasy che secondo me sono più originali più interessanti e anche più diciamo secondo me che tornano proprio tornano di questo decennio io lo dico senza paura secondo me ci sono pochi titoli un po' come il mare senza stelle che creano una differenza si staccano da altre cose secondo me la Clark lo ha fatto alla stragrandissima è un libro bellissimo che esce il 5 febbraio in Italia io rega non so più come dirvelo che dovete leggere piranesi cioè anche i muri devono leggere piranesi ho passato quest'anno a dirvi che dovete leggere piranesi a febbraio arriva è il libro dell'anno è bellissimo è scritto divinamente è un piacere per gli occhi per le orecchie per la lingua per tutto ciò che viene coinvolto quando ha a che fare con la scrittura molto labirintico tenete presente sempre questa cosa qua è originalissimo per alcuni pezzi è molto originale la costruzione che fa Susanna Clark del mondo come ve lo spiego senza fare degli spoiler non lo spieghiamo quindi rega dovete leggere piranesi piranesi è il libro del 2020 per me del 2020 è stata una delle poche gioie del 2020 spero che sarà il vostro libro del 2021 io raga mi espongo poche volte così tanto quindi mi raccomando bellissimo rega bellissimo io non ce l'ho neanche come copia fisica per farvi capire non ho nemmeno preso l'edizione inglese che è bellissima leggete piranesi confido tantissimo nella traduzione spero sia una traduzione fatta come si comanda che ansia rega però davvero un libro magnifico affascinante davvero ci sono tante cose che a me piacciono dentro è un libro strano è un libro dove vi perderete non capirete ed è normale ma a me piacciono i libri così cioè io fondamentalmente mi affido al libro e spero che mi porti da qualche parte se poi è una parte che a un certo punto capisco bene se non la capisco fino alla fine bene lo stesso basta che insomma ci sia una piccola Susanna Clark che una volta ogni 16 anni ci regala una meraviglia del genere veramente super contenta e poi pensiamoci un attimo quello che vi dice vabbè qua delirio io che parto con delle parentesi cioè tre anni fa Magdalena Miller torna dopo 14 anni forse 13 l'anno scorso Erin Morgenstern dopo 10 quest'anno Susanna Clark è tornata quest'anno l'anno scorso Susanna Clark è tornata dopo 16 ma rega bisogna ripescare quelle autrici che scrivono un libro ogni 10 anni perché è solo così che scrivi dei libri della Madonna vabbè detto ciò parte questo Scursus insomma questa è un po' la mia top fatemi sapere quali sono state le vostre letture preferite almeno i primi tre cioè almeno giusto da darmi qualche spunto e io spero che queste letture insomma vi abbiano un po' incuriosito accompagnato durante l'anno se qualcosa vi ha ispirato insomma sono sempre contenta quando me lo dite io come sempre vi ringrazio tantissimo per essere stati insieme a me spero di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video ciao